marchiamo la soglia di questi giorni di ritiro quindi tenendo con noi anche le persone che si erano iscritte e all'ultimo per varie ragioni hanno dovuto rinunciare con dispiacere credo cinque o sei persone almeno ma vorrei soprattutto ricordare monica che ha partecipato spesso a questo tempo di ritiro estivo anche qui ad eupilio monica è morta questa settimana aveva 59 anni dopo avere lungamente per quasi vent'anni lottato con rumore e quindi prima vedendo l'arcobaleno così potente ho immaginato che nella sua vitalità monica ci accogliesse in questo modo ho fatto la foto l'ho mandata a paolo suo marito dicendo guarda monica ci ha colto così e lui mi ha risposto mandando mandandomi una foto un altro arcobaleno monica sotto l'arcobaleno dicendo sì anche noi qualche giorno forse qualche settimana fa l'ultima volta che si è stata in montagna c'era questo arcobaleno qua è un intreccio tra vita e morte che ci accompagna sempre e che i momenti particolarmente densi della nostra vita riemerge no siamo sempre consapevoli oscuramente consapevoli alle volte più lucidamente consapevoli che moriamo che siccome viviamo noi moriamo soltanto ciò che vive muore e soltanto la morte permette la vita non potremmo vivere se le nostre cellule non stessero morendo adesso non ci sarebbe trasformazione e quindi non ci sarebbe vita e quindi entriamo in questi giorni di ritiro di silenzio di ascolto immersione nella parola di vita che ci accompagna attraverso i sentieri dell'esistenza nell'intreccio di vita e di morte ma vedremo in questi giorni la morte non è una tragedia come introduzione ho pensato di proporre questi due brevi spunti il primo questa pagina di san bernardo l'ho trovata in un libro di ermes ronchi che può essere un utile ampliamento di questi giorni il libro di ermes ronchi si intitola le nude domande del vangelo mi pare una roba così i libri di ermes ronchi sono sempre belli tanto belli quelli era quel libro raccoglie gli esercizi spirituali che lui ha predicato a papa francesco qualche anno fa e all'inizio di quel libro padre ermes riporta proprio questa pagina di san bernardo allora gliel'ho proprio rubata grettamente perché mi pare molto confacente a alle nostre necessità a chi varca le soglie del tempo di silenzio tra l'altro visto che in vendita giù in vetrina giù alla reception se qualcuno poi vuole san bernardo dunque nella mia sconfinata pigrizia non sono andato a vedere se san bernardo sta parlando in questa pagina a se stesso o a qualcun altro ma mi piace immaginare che stia parlando a se stesso e noi immaginiamo che stia parlando a se stesso e se stava parlando a un altro peggio per lui era meglio se parlava a se stesso sentite che bello dice così tu accogli tutti perché non accogli a tua volta a te stesso sei debitore dei saggi e degli stolti solo a te non devi nulla i doti e gli ignoranti i liberi e gli schiavi i ricchi e i poveri gli uomini e le donne i vecchi e i giovani gli ecclesiastici e laici giusti e i peccatori tutti hanno su di te la loro parte il tuo cuore è una fontana pubblica dove tutti hanno diritto di bere tu solo devi rimanere in un angolo assetato non restare privo di ciò che ti spetta scorrono fin per le piazze le acque della tua generosità ci si dissetino pure gli uomini e le gregi offri da bere anche i cammelli di abramo come rebecca insieme con gli altri però accosta anche tu le labbra alla sorgente del cuore lo straniero non ci beva sta scritto e saresti proprio tu lo straniero e per chi non lo sei se sei straniero per te stesso e chi è cattivo con sé e chi è cattivo con sé con chi sarà buono ricordati quindi di rientrare in te non dico sempre non dico spesso ma almeno qualche volta e tutti si servono di te insieme con gli altri o perlomeno dopo gli altri servite neanche tu bello no gli dice oh sei sempre impegnato a distribuire la tua generosità parlare con uno ascoltare l'altro servire questo qui dar da mangiare a quell'altro ma tu non ti fermi mai a bere alle sorgenti del tuo cuore e guarda che così ci si esaurisce scorrono fin per le piazze le acque della tua generosità però insieme agli altri accosta anche tu le labbra alla sorgente del cuore l'invito che ci raggiunge dalla pagina di bernardo è di avere fiducia nelle sorgenti del nostro cuore abbiamo un tesoro di sorgente di vita nel nostro cuore nel cuore di ognuno di noi sgorgono sorgenti d'acqua vita che d'acqua viva che cosa aspetto ad accostare labbra per bere l'invito a desiderare la sorgente del mio cuore a guardare con simpatia al mistero del mio cuore possiamo dirlo in tanti modi ad avere stima del mio cuore a non aver paura del mio cuore direi anche a non diffidare del mio cuore una cattiva tradizione spirituale mi permetto di dire questo forse sono troppo drastico ma una cattiva tradizione spirituale ha voluto insistere sulla pericolosità dell'ascolto del proprio cuore intendendo con questo insinuare il sospetto rispetto alla possibilità di trovare orientamento nella vita ascoltando sé e dicendo no devi ascoltare quell'altro devi ascoltare il padre spirituale devi ascoltare naturalmente dice una cosa seria e vera ma se è portata all'estremo porta a una a un preventivo sospetto nei confronti della propria interiorità e invece noi abbiamo bisogno di bere alle sorgenti della nostra interiorità perché nella tradizione biblica quella è quello è il luogo dello spirito quindi questi giorni noi facciamo questo scendiamo per bere alle sorgenti dello spirito in noi l'acqua buona che sgorga perché il nostro cuore è bello perché il nostro cuore è buono con tutto il suo incasinamento con tutti i suoi pasticci con tutte quelle le contraddizioni è una meraviglia al nostro cuore allora l'immagine dell'acqua che gorgoglia dal fondo della sorgente che scatturisce dal profondo mentre riprendevo in mano queste note prima oggi pomeriggio pioveva no il potere terapeutico dell'ascolto dell'acqua adesso volevo suggerire stasera di stargli ad ascoltare in stanza con la finestra aperta ma smesso di piovere ora non dico di tirare lo sciacquone non è la stessa roba però l'esercizio di ascoltare in profondità la voce dell'acqua che scorre che gorgoglia la pioggia che scende è un esercizio molto evocativo io ricordo non so se ho già raccontato probabilmente sì perché mi ripeto ma ricordo in un momento brutto 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 nella mia vita quando ero ancora in seminario mi sentivo sporco 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 e mi sentivo oppresso da questa roba brutta che gravava su di me e il senso di liberazione di pace nell'andare in questo luogo appartato su una collinetta c'era una statuetta della madonna e c'era una sorgente che sgorgava quindi c'era il gorgoglio dell'acqua ecco mi rivedono lì vicino affranto da da quello che mi si muoveva dentro e la terapia dell'ascolto dell'acqua che parlava del mio desiderio profondo di potermi liberare da quel marcio e l'immagine della sorgente interiore che sgorga e che purifica e che risana possiamo andare a prendere nel silenzio e zecchiele non mi ricordo mai cos'è 47 la sorgente che sgorga come un ruscelletto piccolino dal fianco destro del tempio nuovo dice zecchiele anziché questa tacquetta anziché disperdersi nella polvere man mano che scende lungo la collina del monte sion acquisisce forza diventa un torrente poi un fiume poi un fiume navigabile arriva nel mar morto e fa risorgere tutto quanto ecco quella sorgente gorgoglia nel fondo del nostro cuore di quello abbiamo sete e in questi giorni quello che chiediamo è di scendere lì e la buona notizia è che l'acqua c'è si chiama spirito santo che nella bibbia è rappresentato spesso dall'acqua l'acqua gorgoglia l'acqua di vita nuova la buona notizia è che al fondo di me già è data già scorre già gorgoglia c'è la cappellina della madonna che che libera la sua acqua sorgiva c'è il tempio nuovo al fondo di me che già consegna la sua acqua che cosa aspetto ricordati quindi di rientrare in te almeno qualche volta non restare privo di ciò che ti spetta allora siccome tante volte in questi anni siamo tornati sull'immagine della sorgente d'acqua viva che sgorga dal fondo no citiamo sempre etti hill e zoom no in quel passo meraviglioso dove dice c'è una sorgente d'acqua viva in me no però alle volte riesco a raggiungere altre volte è sepolto sotto pietre e sabbia allora bisogna di seppellire la sorgente perché lì c'è dio bisogna di seppellirla la sorgente perché dio è sepolto voglio di seppellirlo allora entriamo in questi giorni con questa domanda questa sorgente d'acqua viva che sgorga è forse occlusa da qualche cosa dentro di me c'è qualcosa che c'è questo pietrisco questa sabbia che che la ostruisce questa sorgente d'acqua buona che nome ha dentro di me questo pietrisco che 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 impedisce è importante dare un nome alle cose no sappiamo ci permette di definire le cose che ci abitano e quindi giochiamo a intrecciare l'immagine dell'acqua che sgorga con la parabola del seminatore che ci viene sempre incontro no che cos'è che ostruisce la sorgente cos'è che impedisce al seme della parola di trovare accoglienza in me magari arrivo in questi giorni come la strada calpestata vedete gesù che dice i miei racconti le mie parole sono come semi buoni potenti ma se incontrano la strada ribalzano non entrano magari arrivo a questi giorni e sono un po calpestato dentro sono come un sentiero battuto e ribattuto la gente mi è passata sopra tante volte l'immagine di una persona calpestata dalla vita magari mi sento calpestato dalla vita ho preso tante sberle ultimamente tanta sofferenza e quindi magari sono diventato un po cinico magari c'è quella parte di me che è come la strada indurita calpestata che ha perso vita non c'è più erba è diventata terra battuta perché dice ma io non ci credo più ma io sono stato fregato troppe volte troppe speranze e prese a sberle non ci credo più la sorgente si è inaridita per troppo carico di dolore di delusione magari arriva in questi giorni un po così e allora sarà importante che dal più profondo di me io prenda tra le mani questo terreno calpestato e lo metta nelle mani del signore della vita lo metta nel respiro dello spirito di vita dicendo restituisci vita a quella parte di me che è morta o magari arrivo in questi giorni e sono un po travagliato dalla fretta sono come il terreno sassoso Gesù che dice sapete io semino il seme buono della mia parola ma alle volte i semi finiscono in un terreno sassoso c'è poca profondità e i semi mettono radici e subito c'è un po di entusiasmo che bello ma appena salta su il germoglio siccome c'è poca profondità il sole sorge secca tutto se c'è poca profondità il seme non può germogliare non può crescere se c'è poca profondità la sorgente non ha spazio inaridisce ed è l'immagine della fretta la poca profondità la superficialità il grande male diceva oscar wilde la superficialità il correre sempre il cuore sempre altrove la fretta il passare da una cosa all'altra mamma mia l'iper stimolazione siamo tutti per stimolati no qualcuno la chiama la nostra la società della stanchezza perché dice o basta passeggiare per strada sei per stimolato primo perché ormai anche quelli che portano in giro il cibo in bicicletta tu cammini sul marciapiede e rischi di 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 fratturarti il bacino questi ormai salto fuori dappertutto diventa esercizio di iper stimolazione anche solo camminare per la strada la quantità di immagini che 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 ti bevi mentre ti guardi in giro la quantità di poi noi siamo esperti no ci riempiamo le orecchie con ormai anche i podcast con 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 iper stimolazione non c'è spazio di scendere in profondità e questo è un problema magari arrivo trafelato dalla fretta questi giorni e quindi arrivo dicendo oh sai cos'è basta parole e poi c'è don paolo che fa il pippone anche per un'introduzione del cavolo comincia a metterci tre quarti d'ora no un po di silenzio staccare e allora uno dice arrivo travagliato dalla fretta signore donami di riposare in profondità aiutami a staccare dal cellulare oppure arrivo a questi giorni un po' oppresso dall'angoscia angoscia etimologicamente è lo spazio chiuso che si restringe che toglie il respiro angoscia no ciò che non ha spazio angoscia magari perché il travaglio di persone cui voglio bene mi toglie spazio di respiro angoscia magari non rivolta a me ma a qualcuno che che amo e che attraversa un tempo difficile e non riesco bene a collocarmi perché perché sento che mi toglie il respiro l'ansia relativa a quella persona e allora anche questa anche l'angoscia deve essere convertita vuole chiede di essere convertita mi torna sempre in mente anche questo lavoro l'ho già raccontato no di quella notte l'ultima notte di mia mamma io avevo portato a casa mio papà mentre mia mamma viveva il suo orto degli olivi in ospedale e quella notte mentre cercavo di prender sonno mi rivedono l'angoscia che monta perché oscuramente sono consapevole che mi mamma sta morendo e quella notte ho imparato credo che l'angoscia è la mancanza di uno sbocco se vuoi che la angoscia maturi in qualcosa di di nuovo e di vitale devi trovare uno sbocco è come una palude che deve trovare una via d'uscita e allora quella notte quella voce interiore che mi dice si respira e nel tuo respiro accoglie la mamma e l'accompagni a trovare il suo sentiero nel morire l'accompagni a morire esci dalla palude di doverla trattenere ad ogni costo o quello che la accompagni lì ho scoperto che si tratta di accompagnare i processi appunto quello mi aveva dato una pace profonda l'angoscia stringe chiude e impedisce un'evoluzione e di natura sua l'angoscia vuole maturare nell'accompagnare il processo magari arrivo in questi giorni un po carico di angoscia ristretto nell'angoscia chiederò di imparare ad accompagnare il processo mio o della persona che sto accompagnando trovare uno sbocco una direzione tutto questo è possibile quando scendo le mie sorgenti noi siamo qui in questi giorni per tornare alle nostre sorgenti ognuno le sue il secondo punto è questo il tema di questi giorni cioè del nostro percorso come comunità pastorale il percorso di quest'anno è stato le domande di gesù ci siamo detti già nel ritiro di quaresima e poi in quello di pentecoste gesù è un uomo che pone tante domande nei vangeli ne pone più di duecento 220 circa è un uomo che si trova a suo agio nelle domande anche qui abbiamo citato spesso i rabbini che dicono che la domanda è spesso più potente della risposta no si arriva a dio più con la domanda che non con la risposta perché la domanda ha una forza che spesso la risposta non ha già più dio ha creato il punto di domanda e l'ha posto nel cuore dell'uomo dicono sempre i rabbini che bello le domande della nostra vita che spesso sono faticose pesanti impegnative perché sono piene di vita e tutto ciò che è pieno di vita è impegnativo e faticoso allora mi è venuto in mente questo passo del storia di elsa morante che trovo meraviglioso e ce lo leggiamo ma perché chi parla è useppe questo bimbo credo ci abbia tre anni non sono roba così che gli dà la madre siamo nel periodo della seconda guerra mondiale siamo a roma ida deve chiudere in casa useppe perché deve andare a cercare qualcosa da mangiare e quindi non potendoselo portare dietro lo lascia in casa e quindi useppe comincia ma perché perché in realtà questa sua domanda non pareva non pareva rivolgersi proprio a ida la presente piuttosto a una qualche volontà assente immane e inspiegabile ida invece di nuovo si immaginò che lui la accusasse per averlo rinchiuso dentro casa a tradimento ma presto nei seguenti giorni dovete convincersi che tale spiegazione non bastava quella domanda perché era diventata in useppe una sorta di ritornello che gli tornava le labbra fuori tempo e fuori luogo forse per un movimento involontario se no si sarebbe preoccupato di pronunciarla bene con la r perché quando useppe vuole dire qualcosa che proprio con determinazione gli viene la r da dire altrimenti normalmente no lo si sentiva a volte ripeterla fra sé in una sequela monotona perché 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 ma per quanto sapesse d'automatismo questa piccola domanda aveva un suono testardo e lacerante piuttosto animalesco che umano ricordava di fatti le voci dei gattini buttati via degli asini bendati alla macina dei caprettini caricati sul carro per la festa di pasqua non si è mai saputo se tutti questi perché innominati e senza risposta arrivino a una qualche destinazione forse a un orecchio invulnerabile di là dai luoghi che bello la pregnanza della domanda che viene fuori in tanti modi no il creato intero pone domande i gattini buttati via gli asini bendati alla macina i caprettini caricati sul carro per la festa di pasqua che vengono portati al macello il bimbo che non capisce noi che non capiamo e tutta questa domanda ma perché ma che senso ha ma che direzione ha la vita è come una gigantesca domanda che sorge dal fondo delle cose ma vale anche per i tempi di gioia quando vai vuoi così profondamente bene a qualcuno che ti viene da chiedere ma perché ci vogliamo così bene ma perché sono così benedetto nella vita ma perché sono vivo è forte no è una domanda carica anche di gratitudine ed è già però una responsabilità che ti trovi addosso e dici ma qual è il senso della mia vita che avventura è bello essere vivi è un casino però un casino bello che avventura e il samorante si chiede ma tutti questi perché scritti nella carne nella storia al fondo delle cose ma ci sarà un orecchio che li ascolta sti perché ci sarà un cuore che che li accoglie che li elabora questi perché il grande racconto biblico ha qualcosa da dire in questo oggi stamattina almeno nella liturgia ambrosiana che naturalmente è minoritaria rispetto a quella romana nella liturgia ambrosiana prima lettura oggi abbiamo letto esodo 3 1 15 no riprendiamolo brevemente con il signore che dice a mosè dal rovetto ardente ho osservato la miseria del mio popolo in egitto notate i verbi ho osservato la miseria del mio popolo in egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti conosco infatti le sue sofferenze sono sceso per liberarlo dalla mano dell'egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso verso un paese dove scorre latte e miele l'immagine dell'acqua che sgorga la sorgente viva verso il luogo dove si trovano al cananeo l'ittita eccetera ho osservato, ho udito, conosco, sono sceso il grande racconto biblico dice fin dall'inizio cara Elsa Morante sì c'è un orecchio che ascolta c'è un cuore implicato è il grande travaglio della vita quindi tutti perché sgorghino dal fondo dei cuori anzi quando sono incriccati dentro non riescono ad esprimersi esercitatevi a fargli emergere i perché e protestate e lottate e litigate con il senso profondo delle cose con il mistero della vita e della molle litigate perché tutto questo è la vita che cerca il suo sentiero perché alza tuo perché Gesù nel momento della sua tortura innalza il suo perché Dio mio Dio mio ma perché mi hai abbandonato ma perché mi hai abbandonato ma che senso ha questa roba qua ma perché è Gesù che torna ad essere bimbo come Euseppe ma perché e però facendo emergere il suo perché Gesù si sta già consegnando fiduciosamente al travaglio della vita perché sta scegliendo tra i tanti salmi possibili quel salmo che parte con il perché dell'angoscia e trova il sentiero per esprimersi nella fiducia di chi dice ma io vivrò per lui la fine del salmo ma io vivrò per lui fino a quel momento il salmista ha descritto l'angoscia di essere attorniato dai nemici dai leoni dai tori queste creature terribili ma un po' per volta comincia a sorgere la consapevolezza che anche in quel deserto l'acqua sgorga scorre trova il modo la polla sorgiva di cui parla Genesi e viene fuori acqua e quindi a un certo punto respira il salmista e dice ma io vivrò per lui lo servirà la mia discendenza c'è uno sbocco di futuro la vita trova il modo la vita è potente come l'amore trova il modo e Gesù crocifisso torturato grida una volta di più la sua fiducia la sua speranza la sua consapevolezza la sua consapevolezza che la vita trova il modo e quindi noi siamo qui in questi giorni per immergerci nelle nostre sorgenti per trovare lo sbocco il sentiero per chiedere di trovare il sentiero attraverso dentro attraverso i nostri perché per respirare vita per tornare alla consapevolezza che la vita trova il modo che la vita è affidabile questa è la fede le domande di Gesù le domande aprono un cammino sono esprimono un desiderio di vita anche quando sono il perché che sembra non avere risposta è già la vita che freme la domanda che sorge chissà che non abbiamo in orecchio in cuore qualche domanda particolare di Gesù nel tempo del silenzio oggi domani potremmo chiederci c'è qualche domanda di Gesù nel Vangelo che mi ritorna che mi è rimasta dentro magari si è impigliata dentro nel cuore da qualche parte magari è lì che pulsa ne metto lì alcune sono venute in mente queste di primo acchito che cosa cercate? Giovanni il Vangelo di Giovanni inizia con questa domanda la prima cosa che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni dicevamo nel ritiro di Quaresima Gesù che si gira verso questi due discepoli di Giovanni Battista che lo stanno seguendo si gira e dice cosa cercate? le prime parole di Gesù nel Vangelo sono una domanda e Gesù inizia subito ad aiutare la gente con cui ha a che fare a guardarsi in cuore a scendere alle sorgenti interiore che cos'è che cercate? cosa desiderate? maestro dove abiti? vabbè venite e vedrete entrate nella grande avventura della vita con me e il punto d'arrivo del Vangelo di Giovanni è un'altra domanda simile ma diversa con Gesù che chiede a Maria di Magdala nel giardino del sepolcro dopo la sua surrezione quando Maria non ha ancora riconosciuto che lui non è il giardiniere ma è Gesù risorto Gesù le chiede donna perché piangi? chi cerchi? chi cerchi? e tutto il Vangelo di Giovanni è come un arcobaleno che parte dal che cosa cercate al chi cerchi? il punto d'arrivo è la relazione con lui non cercare genericamente qualcosa cioè maturare dal cercare genericamente qualcosa al cercare l'amore della mia vita chi cerchi? che cercate? Giovanni 1,38 mi do le citazioni se poi volete andare donna chi cerchi? Giovanni 20,10 scusate 15 vuol dire capitolo 20 versetto 15 oppure pensiamo a quando Gesù incontra il cieco sulla via di Gerico e avete presente il cieco che dice ma cosa succede? perché tutto sto casino? sta passando Gesù il Nazareno no veramente allora comincia a gridare Gesù figlio di Davide abbi pietà di me ma sta zitto che ci deve fare brutta figura Gesù figlio di Davide abbi pietà di me e allora Gesù che sta passando si ferma dice chiamatelo che bello e questo si alza lascia giù il mantello che è tutto quello che ha e si fa portare da Gesù e Gesù cosa fa? pone una domanda cosa vuoi che io faccia per te? ma se si può fare una domanda così cosa vuoi che io faccia per te? ma come cosa vuoi che fai? è cieco e dai ma che bello è Gesù che dà all'uomo a quest'uomo la dignità di poter dire il suo desiderio profondo e crea lo spazio perché quest'uomo possa coraggiosamente una volta di più esprimere il suo desiderio questo uomo potrebbe dire qualcos'altro perché magari dentro di lui una parte di lui dice eh no io l'ho desiderato tante volte sono andato da tanti medici basta non ci credo più non voglio più sperare per poi rischiare di essere deluso eh potrebbe essere come la strada calpestata tante volte presa sberle dalla vita dice basta non ci credo più e invece no ha il coraggio di dire che io veda di nuovo che cosa vuoi che io faccia per te? Marco 10 10 51 oppure Gesù era veramente un tipo quando c'è la donna che ha perdito di sangue che la rende impura lo segue di nascosto in mezzo alla folla perché sa che non può toccarlo se non lo rende impuro e si avvicina piano piano e dice se anche riesco solo a sfiorare il lembo del suo mantello sarò guarita e allora in mezzo alla folla lo sfiora è Gesù che si ferma e si gira dice chi mi ha toccato? ma come chi ti ha toccato? ma ci sono cento mani che ti hanno toccato e dai cosa vuol dire che mi ha toccato? che bello gli evangelisti lo raccontano in modo diverso ma a me piace tanto la versione di Luca perché Luca è quello che sottolinea lo sguardo Gesù adesso me le confondo magari Gesù che non risponde neanche alla domanda di Pietro e gli altri che dice cosa vuol dire? chi ti ha toccato? ti ha toccato un sacco di hanno fatto il tucatucca tutti quanti dai ti danno le pacche sulle spalle ti dicono dai che sei forte cosa vuol dire? chi mi ha toccato? e Gesù neanche risponde non gli degna neanche lo sguardo perché sta cercando perché sta cercando quel tocco cioè il colei o colui che ha espresso il suo desiderio di vita attraverso quel tocco ha sentito la vita e la speranza in quel tocco e allora che bello lo sguardo di Gesù e la sua domanda a chi mi ha toccato crea lo spazio perché la donna possa esprimere la sua dignità di fare il passo mettersi in ginocchio lo strassi a terra e dire tutto quello che ha vissuto cioè dire ho commesso la colpa secondo la Torah ho toccato un uomo tanto più un rabbino io che sono impura l'ho reso impuro ma chi se ne frega in quel contesto lì ma chi se ne frega infatti Gesù non solo non la non la rampogna ma la rende modello davanti a tutti dicendo figlia vai la tua fede ti ha salvato questo è modello di fede ma che bello come si dà la dignità a una persona Gesù sta dicendo grazie guarda grazie perché col tuo modo di fare hai raccontato a tutti quello che io le volte cerco di dire ma non capiscono un cacchio questi qua questa è la fede ragazzi questa è la fede è rischiare così varcare la soglia e rischiare l'improponibile e andare oltre la scusa che mi trattiene no non posso perché perché la Torah ma che è la Torah qui c'è la vita che scaturisce dal fondo che è il senso profondo della Torah quindi allunga sto braccio e dichiara la tua speranza chi mi ha toccato Luca 8,45 tagliamo facciamo l'ultima Gesù risorto che va a pescare Pietro che per tre volte l'ha rinnegato sappiamo sul lago di Genezareth che bello all'alba la pesca miracolosa questi che hanno pescato ancora una volta tutta notte ogni volta che questi pescano nel Vangelo non beccano neanche una sardina non è una grande manifestazione di perizia di questi pescatori qua e allora compare sulla spiaggia a un centinaio di metri questo personaggio misterioso che non si sa come dice non è che grida dice a cento metri gettate dalla parte desca della barca e troverete questi gettano la rete e tirano su una quantità 153 grossi pesci le reti non si spezzano però è difficile portare insomma e arrivano a riva e trovano lì costui che è Gesù che ha preparato il fuoco ha cominciato a cucinare che bello il risorto che cucina per i suoi discepoli ma guarda che bello l'immagine dell'eucaristia e allora lì mentre sono raccolti intorno al fuoco a mangiare Gesù che guarda Pietro gli dice Simone di Giovanni non dice Pietro Simone figlio di Giovanni ma tu mi ami più di costoro e Pietro dice tu sei tutto tu sei no dice Signore tu lo sai che ti amo tu lo sai che ti amo sì ti ho tradito ti ho lasciato lo so però tu lo sai che ti amo che tenero no tu lo sai io non lo so ma tu lo sai paci miei agnelli e poi la seconda volta Simone di Giovanni mi ami più di costoro Signore tu lo sai tu lo sai non voglio sprofondare nella mia angoscia nel mio senso di colpo tu lo sai mi aggrappo la tua consapevolezza paci le mie pecorelle e la terza volta Simone di Giovanni mi vuoi bene che bello è Pietro è Pietro che si sente sotto accusa pensate fra i tendimenti nella vita per la terza volta interrogato sull'amore Pietro si sente messo con le spalle al muro dice ma mi stai chiedendo questa cosa perché perché sono in colpa perché tre volte ti ho tradito l'ora tre volte hai bisogno di essere assicurato su questo mi stai ricordando che sono un indegno e invece Gesù gli sta sta chiedendo per tre volte perché vuole aiutarlo a riscattare quelle tre volte del tradimento e peraltro non gli chiede più mi ami ma mi vuoi bene Pietro per tre volte ha risposto tu lo sai che ti voglio bene magari amore non lo so però ti voglio bene che bello e la terza volta Gesù scende e dice mi vuoi bene Siti tu sai tutto tu sai tutto tu sai tutto adesso l'ho recuperato anch'io signore sappiamo tutto quello che è accaduto possiamo ricominciare a partire da quello che abbiamo vissuto lo integriamo e Gesù dice ma certo andiamo mi ami mi vuoi bene Giovanni 21 15 19 quale domanda di Gesù sento rivolta a me in questa stagione della mia vita una di queste una delle altre 215 che ci sono in giro non abbandoniamo troppo in fretta stiamoci un po' dentro in questa domanda perché magari c'è dentro qualcosa mi vuoi bene oppure vuoi guarire oppure cosa cerchi e d'altra parte io quale domanda mi porto in cuore quale domanda voglio fare al Signore quale domanda mi pesa dentro o mi freme dentro non è necessariamente un peso appunto il peso della domanda è già il segno di una vita che lavora magari c'è dentro una domanda piena di gioia invece ma perché mi vuoi così bene appunto ma perché mi benedici così ma perché la mia vita è così bella pur dentro le sberle che prendo però io sono grato grata di perché mi vuoi così bene anche questa è una domanda bella di benedizione da far emergere allora in questi giorni sprofondiamo le sorgenti del cuore per abbeverarci alla sorgente dello spirito portiamo con noi in noi le domande che ci abitano che sono piene di vita ci mettiamo in ascolto per riconoscere se c'è qualche domanda del Vangelo che Gesù pone nel Vangelo e che ci è rimasta dentro e che ci sta lavorando dentro e mettiamo nelle mani del Signore la domanda che che vorremmo porgli quel perché che magari non trova risposta perché magari non c'è risposta ma è già espressione del nostro desiderio di vivere intensamente in profondità naturalmente per tutto questo il contesto necessario è il silenzio quindi in questi giorni non perdiamo l'opportunità del silenzio cogliamo tutto lo spazio e il tempo possibile concludo segnalandovi questa cosa ehm vediamo Grazie.